Ciao a tutti, come mancarli? Questo è importante perché se vuoi farti amare, se vuoi avere la capacità di generare attrazione, se vuoi diventare un riferimento per una persona, per la persona che ti interessa, devi imparare a mancarli. Cioè lui deve, o lei, deve sentire la tua mancanza quando tu non ci sei. E allora qua ci sono diverse strategie per fare questo. Per accentuare la mancanza si può utilizzare una tecnica che riporta proprio una funzione fisiologica, quella dell'acqua calda e dell'acqua fredda. Insomma, se tu metti una mano, tieni una mano per molto tempo nell'acqua, per un po' di tempo nell'acqua ghiacciata e poi la metti dentro una bacinella di acqua calda, la sentirai veramente calda. Insomma, se invece la tenevi normalmente a temperatura ambiente, la senti molto meno calda. Questo perché si accentua la differenza. Ecco, la differenza va a accentuare il secondo stimolo. Quindi se prima dai uno stimolo contrario a quello che dai successivamente, si sente molto di più la differenza. E allora per accentuare la mancanza si può utilizzare una tecnica che è quella che utilizzano tra l'altro naturalmente i narcisisti, ma in questo caso poi i narcisisti mettono in atto tutta un'altra serie di altre cose. Qua va utilizzata semplicemente, diciamo, per questo scopo. E quindi è quella del love bombing. Cioè, inizialmente fai un po' di love bombing, dai disponibilità, dai presenza, fai sentire che ci sei, dai attenzioni, insomma, fai tutta una serie di queste cose. Ma questo non è. È semplicemente un modo per poi far sentire di più la mancanza quando inizierai a togliere. Perché dovrai iniziare a togliere con delle scuse, soprattutto se è una persona iperlogica dovrai mettere in atto delle scuse. Se è emotiva non devi dargli nessuna scusa, devi buttare lì così, insomma, sparire, fare delle cose di questo genere. In questo modo sentirà molto di più la mancanza. Poi una cosa fondamentale è però prestare attenzione ai comportamenti di rimando che darà questa persona. Perché è sempre importante poi calibrarsi su quella persona specifica. Cioè, le tecniche in generale, le linee di principio funzionano, però poi vanno calibrate sulla persona specifica. Perché in fondo ogni essere umano è unico e irripetibile. Non è pensabile di poter attuare una tecnica, diciamo, general purpose per tutti, insomma. Quindi è importante poi calibrarsi su quella persona specifica. Quindi vedere spesso appunto questa strategia di push-pull, di tira e molla, va utilizzata e fa sentire molto la mancanza. Poi devi rientrare, devi anche gratificare la parte logica, insomma. E soprattutto una cosa fondamentale è devi darti un obiettivo. Perché è importante, se vuoi veramente ottenere dei risultati, dare un obiettivo. Se tu dai a darti un obiettivo. In modo tale da sapere esattamente dove vuoi andare. Nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Questo è fondamentale, tenerlo presente. Quindi lavorare per obiettivi, per capire sempre, in modo tale da poter capire sempre, se ti stai avvicinando o se non ti stai avvicinando a questo obiettivo. Perché se le cose vanno bene, continua a farle. Se le cose vanno male, cambia. Fai anche il contrario. Tieni presente questo, che l'unica vera risposta è nel comportamento dell'altra persona. Tenendo presente che ci vuole, alle volte, un po' di tempo affinché un'emozione, affinché qualcosa venga assimilato. Però il tempo è giusto darlo, è giusto lasciare, osservare, insomma, sempre le risposte che si ottengono. Perché quella è la realtà. Non è, la realtà non è quella che tu credi, quello che una persona ti dice. Ma è quello che veramente una persona fa. Ecco, questo è fondamentale. Bene, per questo video è tutto. Mi raccomando, iscriviti al canale, lascia i commenti qua sotto, condividi questo video con i tuoi amici. Ci vediamo al prossimo. Ciao!